Le sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo sono insegnate l'una accanto all'altra nella stessa Bibbia, anzi a volte nel medesimo testo, pertanto entrambe sono garantite dalla medesima autorità divina e entrambe sono dunque vere. Ne consegue che vanno tenute insieme e non messe l'una contro l'altra. L'uomo è un agente morale responsabile pur essendo anche controllato da Dio, l'uomo è controllato da Dio pur essendo anche un agente morale responsabile. La sovranità di Dio è una realtà e la responsabilità dell'uomo è una realtà. Questa è un'antinomia rivelata nei cui termini dobbiamo riflettere sull'ordine divino e sul libero arbitrio.